Eccoti la messa del 9 luglio 2023 nella 14esima domenica ordinaria dalla Chiesa Nostra Signora della Saluto in Torino. Buon ascolto e buona preghiera. Benvenuti a voi che siete qui in Chiesa, benvenuto a te che ci segui da lontano. Iniziamo insieme col canto. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me. Ora invece sei tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ascoltando in questa domenica la benedizione che Gesù innalza il Padre e l'invita ad andare da Lui, quando siamo affaticati e oppressi, siamo invitati a rendere tutta la liturgia odierna una lode e una benedizione affinché la vita quotidiana divenga lode e benedizione del Padre così come Gesù ha fatto. In questa Eucaristia ricordiamo i defunti, in particolare preghiamo per Internicola Marcella, Bernieri Mario, Ricci Emanuela nell'undicesimo anniversario, Lomunno Francesco nel decimo anniversario, Ferrante Anna, Maxenti Ugo, Usai Rosina, Rubio Ettore, Silvi, Kennaiu, Nava Orazio, Raffaella. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Vietà di noi, Signore. Contro di Te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la Tua misericordia e donaci la Tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amo. Chi riele i son, chi riele i son, Christele i son, chi riele i son, chi riele i son, chi riele i son. gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo è il Santo, Tu solo è il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Reggiamo. O Dio che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'erdità del Tuo Regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo, Tuo Figlio, perché portando con Lui il gioco suave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da Te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amén. Dal libro del profeta Zaccaria. Così, dice il Signore, Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a Te viene il Tuo Re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Il tuo nome è per sempre, Signore. Insieme. Benedirò il tuo nome è per sempre, Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome è per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome è per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome è per sempre, Signore. 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 Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dei morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dei morti, darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito, che abita in voi. Così, dunque, fratelli, noi siamo adibitori, non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Acclamiamo al Vangelo con il canto dell'Alleluia. Venite a me. Venite a me. Alleluia. Credete in me. Alleluia. Io sono la via, la verità. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse, ti rendo lode, Padre, Signore del Cielo e della Terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce e il mio peso, leggero. Parola del Signore Lodi a te, oh Cristo Restate in me, alleluia Vivete in me, alleluia Io sono la vita, la santità Alleluia, alleluia Ma possiamo leggere questa pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato in questo modo con due prerequisiti e poi un messaggio fondamentale Due prerequisiti Beh, il primo l'abbiamo sentito Gesù dice Ti rendo l'ode Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti le hai rivelate ai piccoli Verrebbe da dire ma i sapienti e gli intelligenti sono proprio quelli che conoscono le cose hanno studiato hanno approfondito hanno cercato di capire si sono fatti mille perché invece com'è che questi sapienti non conoscono e invece i piccoli conoscono Il prerequisito quindi è non basta farsi mille domande non basta cercare di approfondire Certo è importante farsi mille domande e certo è importante approfondire nella nostra vita però nel rapporto con il Signore a un certo punto arriva l'affidarsi a Lui come il bimbo si affida a sua mamma come il bimbo si affida a suo padre si affida appunto e basta non si fa mille perché mille domande nella fede occorre affidarsi e questo è un bellissimo prerequisito che siamo chiamati sempre a vivere affidarci al Signore ben vengano le domande ben vengano gli approfondimenti ben vengano tutte le questioni che vogliamo porci però poi è bello affidarci al Signore impariamo allora dai piccoli il secondo prerequisito che la pagina del Vangelo ci presenta è quello di dove ci ha detto venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi beh la vita lo sappiamo a volte è tanta fatica tanta fatica per mille motivi tanta fatica per le mille problematiche tanta fatica per le mille cose che non funzionano in questo mondo non è non è il caso che ci mettiamo qui a descriverle le fatiche di questo mondo in questo nostro faticare è bello affidarci affidarci al Signore e qui di nuovo ritorna all'idea del bimbo il bimbo si affida ai suoi genitori senza tante domande scompare come dire la fatica quando si affida a suo padre si affida a sua madre ed è bello anche per noi questo prerequisito scompare la fatica quando sappiamo affidarci al Signore visti questi due prerequisiti arriva il messaggio fondamentale che abbiamo sentito dalla pagina del Vangelo imparate da me che sono mite e tumile di cuore umanamente viene da imparare a volte da chi è vincente umanamente viene da imparare da chi sopraffa gli altri pur di arrivare ai suoi traguardi umanamente viene da imparare a chi è il primo della classe umanamente viene da imparare dal campione dalla persona che primeggia su tutti cristianamente invece c'è un altro primeggiare primeggiare del servizio il primeggiare della donazione il primeggiare del mettersi a disposizione imparate da me che sono mite e tumile di cuore a questa frase del Vangelo che potremmo vedere come centrale faceva ecco la prima lettura dove si diceva che il re arriva cavalcando un'asina uno dice ma com'è che il re arriva cavalcando un'asina il re semmai arriva cavalcando beh un cavallo un cavallo di razza se proprio vogliamo il re arriva dovrebbe arrivare cavalcando un cavallo alato invece che cos'è mai un asino un'asina ecco ma è proprio in questo spirito di donazione non penso a me ma perché penso agli altri non penso a me ma perché mi metto a servizio imparate da me che sono mite ed umile di cuore e allora questo messaggio centrale della pagina del Vangelo beh è difficile da comprendere è difficile da vivere è riservato a quei piccoli che si affidano al Signore non è per i sapienti non è per gli intelligenti questo messaggio è riservato a chi affaticato dalla vita vuole disporsi ad ascoltare il Signore venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e allora impariamo proprio direi da questa pagina del Vangelo questo modello questo modello del servizio dell'apertura questo modello del dono umanamente la molla del primeggiare è molto importante tutti noi ce l'abbiamo tutti noi vorremmo primeggiare in qualcosa è importante indirizzarla bene è importante come dire non indirizzarla a scapito degli altri o a scapito del Signore ma invece indirizzare questa molla che abbiamo del primeggiare indirizzarla a servizio degli altri a servizio del Signore e allora chiediamo al Signore che ci aiuti a primeggiare certo ci aiuti a primeggiare nel dono ci aiuti a primeggiare nell'apertura ci aiuti a primeggiare nell'ascolto ci aiuti a primeggiare nel servizio e il Signore se facciamo questa preghiera certamente saprà ascoltarcela credo in un solo Dio Padre onnipotente creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato e non creato della stessa sostanza del Padre per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo fu crocifisso per noi sotto Ponzo Pilato morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo re non avrà fine credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la Chiesa una Santa Cattolica e apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà Amen Fratelli e sorelle come piccoli che tutto ricevono dal suo amore invochiamo Dio nostro Padre preghiamo insieme dicendo Padre degli umili ascoltaci Padre degli umili ascoltaci la Chiesa sia popolo di umili pronti ad accogliere con gioia la novità di Dio preghiamo Padre degli umili ascoltaci Papa Francesco e tutti i pastori delle Chiese guidano il popolo loro affidato a dimorare nell'amore di Dio preghiamo Padre degli umili ascoltaci i sapienti e i potenti del mondo si convertono nell'avvancello di Cristo via verità e vita preghiamo Padre degli umili ascoltaci i popoli stanchi di guerre ed oppressi da ingiustizie trovino in Cristo la via della pace e della liberazione preghiamo Padre degli umili ascoltaci ciascuno di noi viva l'autenticità del Vangelo libero da tradizionalismi e devonozionismi del passato preghiamo Padre degli umili ascoltaci nella nostra preghiera ricordiamo i defunti preghiamo per Raffaella Nava Orazio Usai Rosina Rubio Ettore Silvi Kenna Iu Maxenti Ugo Ferrante Anna per tutti loro preghiamo Padre degli umili ascoltaci ricordiamo l'omunno Francesco nel decimo anniversario di morte Ricci Manuela nell'undicesimo anniversario Bernieri Mario Internicola Marcella per tutti loro preghiamo Padre degli umili ascoltaci Ascolta Padre la voce degli umili e manda lo Spirito Santo a custodire nella via del tuo figlio umile e mite di cuore Cristo nostro Signore Amen Amén Vivere umilmente Più felice tu sarai anche senza niente Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore una pietra dopo l'altra alto arriverà Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa Ci purifichi oh Signore questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo per Cristo nostro Signore Il Signore sia con voi in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore Rendiamo grazie al Signore nostro Dio e cosa buona e giusta E veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te Signore Padre Santo Dio Onnipotente ed Eterno nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui servo obbediente hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato per questo mistero di salvezza uniti agli angeli e ai santi cantiamo esultanti la tua lode Santo 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 Signore Dio dell'universo i cieli e la terra sono pieni della tua gloria Osanna 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 nell'alto dei cieli benedetto colui che viene nel nome del Signore Osanna 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 nell'alto dei cieli meramente santo sei tuo padre fonte di ogni santità ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo egli consegnandosi volontariamente alla passione prese il pane e rese grazie lo spezzò lo diede i suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi allo stesso modo dopo aver cenato prese il calice di nuovo ti rese i grazi e lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria di me mistero della fede annunciamo la tua morte signore proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta nell'attesa della tua venuta celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio ti offriamo padre il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo spirito santo ci riunisca in un solo corpo ricordati padre della tua chiesa diffusa su tutta la terra rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco nostro vesco Roberto i presbiteri i diaconi ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettile alla luce del tuo volto di noi tutti abbi misericordia donaci per parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio San Giuseppe suo sposo gli apostoli tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria per Cristo con Cristo e in Cristo a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli ammettino ammettino raccolti intorno a questo altare sentendoci tutti figli e figlie dell'unico Padre Celeste diciamo insieme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male liberaci oh Signore da tutti i mali concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo tuo regno tua la potenza e la gloria nei secoli Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace e vi do la mia pace non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà tu che vivi a regni nei secoli dei secoli la pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito scambiamoci un gesto di pace grazie ecco l'agnello di Dio ecco colui che toglie i peccati del mondo beati gli invitati alla cena dell'agnello oh Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa ma di soltanto una parola io sarò salvato grazie a tutti tu sei la mia vita altro io non ho tu sei la mia strada la mia verità la mia verità nella tua parola io camminerò finché avrò respiro fino a quando tu vorrai non avrò paura sai se tu sei con me io ti prego resta con me credo in te Signore nato da Maria figlio eterno e santo uomo come noi morto per amore vivo in mezzo a noi una cosa sola con il padre e con i tuoi fino a quando io lo so tu ritornerai per aprirci il regno di Dio padre della vita noi crediamo in te figlio salvatore noi speriamo in te spirito d'amore spirito d'amore vieni in mezzo a noi tu da mille strade ci raduni in unità e per mille strade poi dove tu vorrai noi saremo il seme di Dio e per mille strade Sous-titrage ST' 501 Per coloro che per vari motivi non si sono accostati al sacramento della comunione, per coloro che magari seguendoci da lontano non ne hanno l'opportunità, leggo adesso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, viene almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da Te. O Signore che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. E concludiamo come sempre questa Santa Messa con la benedizione presso l'urna di San Leonardo Murialdo. Della salute o Vergine, dal popolo invocata, vengono i figli memori, al tempio tuo beato. Della salute o Vergine, dal popolo invocata, ascolta il nostro canto, sorregge il nostro cuore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per l'intercessione di San Leonardo Murialdo, benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amo. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo, grazie a Dio. Buona domenica a tutti. Tu sei la madre propita che ai figli resti accanto Quando il dolore insorge e l'anima è in pianto, ascolta il nostro canto, sorregge il nostro cuore. O rifugio fedele del peccatore O rifugio fedele del peccatore Grazie che sei stato con noi. Iscriviti se vuoi al canale. Alla prossima occasione. Ciao, ciao.